Collabora alla rilevazione dei bisogni. L'infermiere predispone e supervisiona l'intero atto assistenziale perché il maggiore responsabile, l'assistenza diretta alla persona all'aiuto domestico, lo fa l'operatore sociosanitario. L'infermiere valuta il grado di autonomia dell'assistito, sceglie le soluzioni più adeguate e valuta i risultati, gli outcome di quello che deve fare e l'ossa è il responsabile della corretta realizzazione di tutte le attività al suo assegnata. Quindi l'OSS, vedete, svolge un'attività attraverso l'articolo 3 nei contesti operativi nel settore sociosanitario, in collaborazione con gli altri operatori professionali e un'assistenza diretta ed aiuto alberghiero e di supporto anche gestionale e formativo e organizzativo. L'integrazione infermiere-OSS è diventata importante perché l'OSS purtroppo non lavora più negli ospedali, lavora pochissimo. Basti pensare che il futuro anche degli infermieri non sarà più gli ospedali. Gli ospedali chiudono, ormai è il territorio e sul territorio dove l'OSS interfaccia col paziente cronico o cronico fragile deve dare delle risposte. Per dare delle risposte avrà una preparazione adeguata per essere in grado non solo di rispondere ma poter adempiere quelli che sono i compiti propri. E quindi l'OSS opera, come vedete, in autonomia sulla base di protocolli o altre disposizioni, in cooperazione con l'infermiere quando è necessaria la presenza di quest'ultimo e su prescrizione quando svolge attività eseguibili su precisa attribuzione dell'infermiere o sotto la sua supervisione. La regione Puglia è stata una delle regioni ad avanguardia negli ultimi anni perché non solo abbiamo formato una marea di OS ma li abbiamo tutti riqualificati, adesso vedremo i numeri, ma il 50% di questi nostri OS nel momento in cui li abbiamo mandati nelle strutture a fare attività di assistenza il 50% delle strutture ha assunto questi OS ma non perché li ha assunti perché un po' perché aveva bisogno di personale ma per il grado di preparazione per il modo in cui si interfacciavano anche con la realtà comune. Quindi la regione Puglia con la giunta regionale il 5 marzo del 2012 affidava all'IPRES, l'Istituto di ricerca economica e sociale, la valutazione degli interventi per riqualificare un po' gli OS per un costo di 196 mila euro. Dalla valutazione è emerso che i corsi effettuati nel giro di tre anni sono stati complessivamente pari a 293 erogati da 51 enti di formazione tutti accreditati dalla regione Puglia a cui hanno preso parte circa 6 mila corsisti negli ultimi tre anni e 600 è stato il numero di strutture sociosanitarie che la regione Puglia ha utilizzato per poter fare questo tirocino. Quindi l'età media dei corsisti in Puglia è di circa 40 anni, il livello di istruzione è il 44,9% sono diplomati questi ragazzi e l'opinione dei corsisti è che il 76,6% afferma che il corso ha migliorato le proprie condizioni lavorative. Il 60,9% che non lavorava prima del corso ha permesso di trovare un'occupazione nel settore sociosanitario e il 79,8% dei corsisti che lavorava prima del corso ha dichiarato che le competenze acquisite abbiano giovato nell'ambito del proprio lavoro. Il corpo docenti che noi abbiamo utilizzato in Puglia è impegnato come vedete 100% sono tutti laureati, requisito minimo e il 13% possiede anche un dottorato di ricerca. Sono state visitate oltre 600 strutture, oltre 450 strutture oggi impiega circa il 40% di personale os titolare del titolo conseguito dal 2007 al 2010. Come immaginate il 40% delle persone che fanno il nostro corso in Puglia ha già trovato lavoro, ha già un tempo indeterminato in RSA o RSSA e il Burp con l'atto dirigenziale del 9 maggio del 2014 ha fatto l'ultimo avviso di riqualificazione per quanto riguarda in Puglia gli operatori sociosanitari. Come vedete a Bari sono stati approvati 64 progetti per 142 lavoratori, nella BAT 14 progetti per 248 lavoratori, a Brindisi 23 progetti per 411 lavoratori, a Foggia 395 lavoratori e 460 lavoratori a Lecce e a Taranto 373, complessivi 3036. Da correggere il primo dato che è 1420. Come vedete nell'ultimo anno la regione Puglia ha approvato 170 progetti e ha formato ulteriori 3036 lavoratori. Conclusione, la regione Puglia, l'obiettivo di tutto questo è stato uno valorizzare le competenze di cura indispensabili per svolgere questo lavoro delicatissimo e prezioso come io lo definisco, due riportare l'OS a rappresentare il raccordo di una rete di relazioni formali e informali al fine di permettere agli assistiti la migliore qualità di vita. Lo sviluppo di questo percorso si è realizzato attraverso un'idea di qualità dove il senso delle cose, come scrivo, è legato al senso delle persone. Concludo con questa frase, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, buon marinaio non è quello capace di trovarsi fuori dai guai ma il vero marinaio è quello che nei guai non ci si mette mai e sicuramente l'OS non si rimetterà mai nei propri guai. Grazie.